Allora, che cos'è questa scoperta, professore? Allora, più che una scoperta è un risultato tecnologico di tutto rispetto, perché per la prima volta si è riusciti a estrarre da un fenomeno di fusione nucleare più energia di quanta se ne fosse stata messa all'interno della stessa macchina per confinare il plasma da cui questa fusione nucleare è stata prodotta. Questa è fusione nucleare, la differenza con la fissione nucleare? La fusione nucleare è il meccanismo con cui funzionano le stelle, in cui nuclei leggeri si fondono a formare nuclei più pesanti. Come la nota formula di Einstein dice, l'energia è uguale alla massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato, la massa del nucleo risultante è un po' minore della massa dei nuclei producenti. Questa energia può essere messa a disposizione, è il motivo per cui le stelle brillano per così tanto tempo. La fissione nucleare funziona sullo stesso procedimento, soltanto che invece di far fondere dei nuclei leggeri, rompe dei nuclei pesanti. Quindi sono due meccanismi complementari l'uno all'altro. Quanto siamo vicini a un'energia pulita e illimitata a disposizione di tutti? Ecco, non ci siamo tanto vicini perché le tecnologie richieste per confinare il plasma dove questa reazione avviene non sono ancora pronte per essere scalate a dimensioni grandi per poter produrre l'energia per uso civile. Si stima almeno una quindicina d'anni perché i primi reattori dimostrativi possono essere realmente messi a disposizione dello studio e del pubblico. Qualcuno l'ha già definito il santo graal dell'energia senza emissioni di carbonio. Sarebbe una vera rivoluzione in campo ambientale ma anche geopolitico. Il consorzio in Europa si chiama ITER e l'Italia collabora in che modo? L'Italia collabora al consorzio ITER insieme ad altre nazioni nel mondo tramite coordinata dall'Enea ma vi partecipano diversi enti di ricerca tra cui il CNR e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Per esempio l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare studia i materiali necessari per contenere questo plasma oppure studia le potenze di calcolo necessarie per fare i calcoli della fusione nucleare.